I risultati mi sembrano molto buoni, la liquidità arriva dal fatto che la struttura ha fatto un ottimo lavoro e si vedono i risultati. Questa è una banca che ha dei rapporti molto forti con la clientela, ha una rete fenomenale e da qua si vede quello che noi dicevamo da un po' di tempo che finalmente inizia a produrre dei risultati visibili. La banca è viva, come avete visto ci sono dei buoni risultati, questo è il bilancio migliore. Cosa non rifarebbe di questi tre anni? Ci sono tante cose che non si rifarebbero perché per fortuna la gente impara dall'esperienza, ci sono tante altre cose che farei, magari le farei anche con più decisione. Credo che sia abbastanza sbagliato andare a fare quello che chiamano cherry picking perché le esperienze hanno presa tutte insieme. Avete trovato due derivati pesanti come Santorini e Alexandria. Alexandria, per quanto è? Sapete bene che abbiamo chiuso Santorini a certe condizioni con Deutsche Bank, abbiamo l'obiettivo di chiudere anche Alexandria con Nomura, sapendo che la situazione di Nomura, che l'avete letto e coinvolta in procedimenti penali, dal nostro punto di vista è sensibilmente più complessa di quella di Alexandria, quindi la dovremmo chiudere a condizioni che siano coerenti con questa situazione di Nomura. e quindi ci si sta lavorando su.